Dico che è? E' di viazione E' tipo... io fai No, stai vieni qua Spermina? Aspetta Ehm... va bene Ehi, piccolo No, la sopra no, va bene Va bene, lo recupero perché sta su internet la foto Lo vedo? No, con piragli No, la vedo io su internet, lo recupero, si Ah, sono pure la moscia Ehi, ma sei maschio? Che cosa sei? Che cosa sei? Che è? No, 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 no